Oggi 19 maggio 2017 e sulla strada, ecco qua, il primo dell'anno. Troppo piccolo, lo lasciamo qua e vediamo se nei prossimi giorni cresce. Speriamo di trovarne altri, speriamo dopo. Oggi 20 maggio, ieri erano venuti a fare un giretto e l'ho lasciato nel bosco quello piccolo e oggi ho trovato un altro, di nuovo piccolo, sempre sulla strada. Eccolo qua. Anzi, sono due, li nascerò qua e vediamo se crescono. Intanto andiamo a vedere l'altro se è cresciuto. Dai, andiamo a vedere. Sì, qua, di nuovo 20 maggio dopo aver trovato quei due piccoli prima. Adesso vediamo questo qua che l'hanno trovato invece ieri, il 19, che non sembra essere cresciuto più di tanto. Ecco, ho già dei segni sulla cappella. Vediamo se ne troviamo altri. Lo lasciamo comunque qua e vediamo nei prossimi giorni. Finalmente, ho trovato i primi due rossi dell'anno, siamo trasferti in Liguria. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Uno e due. E' bello. belli belli. Spogliono di trovarne ancora. Eccoci qua dopo i due rossi di prima. E' ancora qua. Altri due. Uno fratello più piccolo. E il secondo deve essere bello ma è stato rotto credo un animale. E' bello comunque. Peccato che sia rotto. Tanno che vanno. Guardatemi se è gamba ragazzi. Andiamo a raccogliere l'altro. Eccocci qua. Bello. Spero continui così dai. Strada. Rosso. Ho mangiato però. Va bene lo stesso dai. Che duro. Merda. Qua mi ha fatto saltare. Che cavolo. Vabbè dai. Vabbè la stessa. E finalmente dopo un po' che giravo senza trovare niente vicino a questa manita. Finalmente un altro oro. Bell' red. Eccolo qua. Dai. Bellino. Vabbè. 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 Vabbè.